Vorrei richiamare l'editoriale dell'Avvenire di domenica scorsa, firma del direttore responsabile Marco Tarquinio, dal titolo Quelli che i Vescovi devono tacere, per riprenderne alcuni aspetti che mi paiono davvero importanti, specie alle porte dell'ennesima tornata elettorale fissata, ma pare che si possa prospettare un ulteriore esitamento per il prossimo 31 maggio. Scrive Tarquinio, in sostanza, rieccoli quelli che i Vescovi, i sacerdoti in generale, vanno bene soltanto quando devono presenziare a qualche benedizione dell'avvio di una nuova attività, di qualche statua o gagliardetto, e che si lasciano ricoprire da qualsiasi insulto perché tanto poi alla fine difficilmente querelano, essendo propensi piuttosto all'infinito a porgere l'altra guancia. Rieccoli. Scatenati dal fatto che Monsignor Nunzio Galantino, Vescovo e Segretario Generale della CEI, abbia confermato con esempi tanto più fastidiosi, proprio perché comprensibili a tutti, che non tutto ciò che è legale, una legge, una sentenza, un'azione, poi sia anche morale. Un'idea antica e solida, richiamata a commento della soluzione definitiva di Silvio Berlusconi nell'incresciosa vicenda giudiziaria nota come processo rubi. Non è mia intenzione giudicare la sentenza, che come ogni altra si applica e non si discute, né entrare nei meandri di una polemica tirata fuori, ad esempio da Crozza, nella sua satira del Paese delle Meraviglie di venerdì 13 marzo, in cui si tenterebbe di legare diverso esito del processo di primo grado, rispetto agli altri due, almeno in parte, per il cambio di alcune norme che andrebbero annoverate fra il pacchetto variegato delle famose leggi ad personam. Tra il primo grado e l'appello c'è stata la legge Severino. La concussione non c'è, anche perché la legge Severino l'ha riformulata in modo tale da renderla inapplicabile al caso. Quello che però mi sento di dover ribadire con forza è che davvero abbiamo una improcrastinabile questione morale cui la Chiesa, per suo compito innato, deve richiamare e che non può essere altresì sottaciuta. E il problema riguarda lo stesso modo sia la destra che il centro che la sinistra, perché è un problema che riguarda tutti gli uomini, a maggior ragione quelli che sono chiamati ad amministrare la cosa pubblica, che non può essere considerata come patrimonio personale da utilizzare per i propri fini di parte, come purtroppo spesso accade anche in vicende, di cui magari la magistratura non si occuperà mai. Quanto possono essere ancora credibili persone che hanno indecorosamente marciato sotto mutande alzate come bandiere e hanno votato in massa nel Parlamento della nostra amata Repubblica che rubi ruba cuori al secolo Karim al-Marug fosse credibilmente la nipote di Mubarak, lo lascio al giudizio dei telespettatori. Ma è indubbio che, parafrasando il Vangelo, il fedele nel poco può esserlo anche nel molto, ma l'infedele nel poco di sicuro è difficile che sia fedele poi nel molto. Io credo che ci si possa risollevare dalla disastrosa situazione in cui ci troviamo, ma solo se abbiamo il coraggio di invertire la rotta, promuovendo comportamenti trasparenti e onesti per il bene di tutti. Non posso pretendere però che sia onesto l'altro se non lo sono io. I futuri amministratori vengono educati all'interno di famiglie. Se nelle famiglie non si vive con valori sani, chi ne viene fuori difficilmente sarà una persona sana. E smettiamola pure di pensare ipocritamente che il politico per forza diventi disonesto, visto che, come si dice, l'occasione fa l'uomo ladro. Non c'è proverbio più falso di questo. Non è l'occasione a fare l'uomo ladro. Semmai l'occasione gli rivela chi o cosa davvero egli sia. Grazie a tutti.